I sistemi di riconoscimento facciale rappresentano una minaccia ancora sottovalutata per la privacy e la libertà individuale di ogni essere umano. Concediamo parti delle nostre vite ad aziende private estere attraverso informazioni che parlano di noi, dai gusti personali ai nostri spostamenti, una forma di fiducia che mai daremo ad uno sconosciuto per strada ma che senza troppe domande accettiamo nei confronti di multinazionali delle quali conosciamo solamente il nome. Esempio eclatante è quello di Amazon Recognition, un software sul mercato dal 2016 utilizzato periodicamente dalle forze dell'ordine americane che grazie alle tecnologie deep learning sviluppa una tecnica di intelligenza artificiale per identificare figure come oggetti, animali o volti. La iper sviluppata tecnologia odierna e i software di riconoscimento facciale mettono quindi in discussione svariati principi etici ma soprattutto il significato di privacy aumentando il timore di un uso improprio delle nostre informazioni.